che questa situazione io ieri l'ho definita di stallo messicano che si è venuta a creare alla fine mette le istituzioni nella condizione di non poter funzionare. Ecco perché appunto come lavora adesso la regione Liguria? Ma io penso guardi così a occhio già quando le cose sono diciamo tranquille la burocrazia non è proprio naturalmente propensa a mettere firme. Mi posso immaginare che in questo momento non autorizzeranno neanche dei passi carrabili, non è competenza della regione. Comprare la risma di carta vediamo, parliamo. Io credo che in questo momento ci sia il panico e se non c'è in qualche modo uno sblocco di questa situazione quale che sia, adesso tocca alla destra dire qual è ma se non c'è lo sblocco di questa situazione credo che la paralisi sia abbastanza inevitabile però in quelle cose che diceva la Meloni forse è mal informata ma dice aspettiamo di vedere perché Toti intanto ha governato bene. Ora intanto io spero che governare bene sia un problema non solo di merito ma anche di metodo ma il merito è che in Liguria in questo momento mentre si possano avere delle concessioni in poche settimane si aspetta più di un anno o quasi un anno per fare una visita di controllo per una patologia oncologica. Setta, le chiedo, Nordio ha espresso perplessità sull'esigenza dei domiciliari per Toti la mia domanda è ma è giusto che il Ministro della Giustizia si esprima su una misura preventiva? No, non è giusto, possono parlare tutti guardi io penso che si possono criticare le misure si possono criticare le sentenze non sono di quelli che dicono le sentenze si rispettano certo si rispettano ma possono essere anche sbagliate se no non ci sarebbe l'appello non ci sarebbe la possibilità della revisione del processo eccetera 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 quello che però l'unico che non può parlare è il Ministro della Giustizia è per una ragione perché il Ministro della Giustizia ha un fischietto in bocca nel senso che il Ministro della Giustizia è il titolare della potestà disciplinare e quindi può mandare un'ispezione quindi se pensa che i giudici di Genova abbiano autorizzato delle misure senza che fossero fondate ha gli strumenti per poterlo fare se dice che ha delle perplessità e non fa getta solo fango sui giudici e diciamo non esercita quello che sarebbe un suo dovere non un suo diritto lei qual è?